Fedez furioso su Instagram, giornalisti che vanno a chiedere se sono omosessuale, inchieste del cazzo. Poco fa Fedez ha pubblicato sul suo profilo Instagram una serie di storie dove si sarebbe scagliato contro una giornalista di fuori dal coro per un'inchiesta sul suo orientamento sessuale. Questo è il racconto del rapper. Successivamente il marito di Chiara Ferragni ha spiegato nel dettaglio cosa sarebbe successo. Il rapper si è poi rivolto direttamente alla trasmissione di Mario Giordano. La trasmissione ha prontamente replicato attraverso i suoi canali ufficiali.